La psicologia, passato, presente e futuro tra storia e società. È il momento di confronto che l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d'Abruzzo ha voluto organizzare per celebrare anche l'inaugurazione della nuova sede. Tanti i temi sul piatto per dibattere sullo stato di salute della psicologia in Regione. Il bisogno di psicologi è un dato supportato dai numeri, la richiesta sempre più crescente si vede dai dati relativi al bonus psicologo. Il bonus psicologico è una misura che è stata introdotta dal governo Conte e è stata rinnovata dagli altri governi e ha visto nel nostro territorio in Abruzzo 12.000 domande. Di queste 12.000 domande ne sono state evase 1.200, quindi capite che c'è una risposta di fronte a questo grande bisogno assolutamente limitata. Diciamo che il bonus, l'abbiamo sempre interpretato così anche come Consiglio nazionale degli Psicologi, è una risposta nell'immediato, giusta e doverosa. Però è chiaro che un sistema sanitario nazionale in un momento storico così complicato non può andare avanti con forme di bonus, ma quello che noi chiediamo, l'abbiamo chiesto anche alla Regione, è una forma di assistenza sanitaria sulla salute mentale, certa e qualificata. Certa vuol dire che nei servizi devono esserci i psicologi e le psicologhe assunte a tempo indeterminato e che i servizi devono essere aumentati. I dati confermano l'importanza dei servizi psicologici non solo come trattamento ma anche come prevenzione, anche perché contribuiscono ad avere significativi risparmi sui costi della salute mentale. È fondamentale la figura dello psicologo di base di quello a scuola. Per fortuna da un po' di tempo si è abbandonata l'idea dello stigma dello psicologo come fosse un mago o uno stregone. La figura viene riconosciuta. Purtroppo i dati sono in aumento dopo la pandemia. Sempre più giovani si sono rivolti a uno psicologo. Il disagio dell'uomo contemporaneo è talmente forte, il livello di patologia, l'intensità, la frequenza fanno sì che ci sia una domanda di cura psicologica. Quindi le domande noi notiamo che sono in costante crescita. Spesso fatichiamo anche a dare una risposta perché è giusto avere una profonda ed alta formazione. Quindi lo stigma dello psicologo che era solo per colui che era grave non è più così. È importantissimo, anzi, già dai primi segnali di disagio, soprattutto nell'età evolutiva, rivolgersi ad uno psicologo specialista perché è lì che si può fare la differenza ed evitare che ci siano esordi, infausti e più gravi.